Ciao videomaker e bentornati sul canale. Negli scorsi video avevamo visto questo robo qui, il sistema Lark 150 di Holyland. Avevamo fatto un unboxing e mi aveva stupito un po' tutta la scatolina che alimenta trasmettitori e ricevitore. Mi era piaciuto, bello, robusto, carino, molto bello secondo me questo sistema, però ovviamente in quel video non lo avevamo messo ancora alla prova, non avevamo sentito il suono di questi trasmettitori, la capsula sui trasmettitori, non avevamo sperimentato questo microfono, l'avalier proprietario di Holyland. Insomma, avevamo soltanto dato un'occhiata. Ho avuto modo di lavorarci un po' in questi giorni perché ho anche fatto delle interviste e vi faccio vedere un po' di estratti, facciamo un test all'esterno, facciamo una piccola comparativa con i Wireless Go, che è il sistema che per il momento sto usando per la maggiore, e vi faccio già un piccolo spoiler sulla fine di questo video. Mi piace un botto questo sistema e forse per alcune cose lo preferisco in maniera schiacciante rispetto al sistema di Rode. Ok, siamo fuori, ho il lark qui attaccato alla giacca e siamo in un campo in cui posso allontanarmi un po' come voglio. Mi allontano, mi allontano, c'è anche un pochino di vento, poco poco, vedete i capelli come si muovono al vento? Ok, prova, 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 mi allontano, mi allontano, mi allontano, mi allontano. Sono sempre a favore di camera, mi allontano, mi allontano, mi allontano, mi allontano. Ehi! Ehi! Sono partite pure le campane, signori. Che allegria. Mi avvicino. Posso provare a infilarmi dietro quella palma. Vediamo se la palma blocca il segnale. Vado, vado, parlo, parlo, cia, 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 mi allontano. Di solito mettendo un oggetto tra te e il ricevitore qualcosa dovrebbe andare perso. Vediamo. Ci mettiamo dietro la palma, dietro la palma, dietro la palma. Se mi sentite parlare da dietro la palma vuol dire che la palma è parlante. La palma è parlante, credo, perché la mia dolce metà non mi segnala nulla di strano. C'è intanto un signore anziano che ha provato a dirmi qualcosa perché pensa che io sia rincoglionito e parli da solo. Ok, il test all'aperto è stato davvero soddisfacente. Mi piace sia il suono di questa capsula che la performance. Insomma, ero dietro una palma a parecchi metri, non saprei quantificare, ma ero veramente lontano dalla camera. Ero fuori con X-T4. E il suono è veramente bello. Bello, pulito, senza problemi. E la cosa figa, ovviamente, come per il sistema 2 del Wireless Go di Road, è che puoi prendere il segnale di due trasmettitori. Molto bella questa cosa anche per girare semplicemente della narrativa. Una scena con due personaggi che camminano, questi cosi sono veramente piccolissimi. Li riesci tranquillamente a imboscare dietro il bavero di una giacca. Poi a una certa distanza neanche si noterebbero. Quindi, tanta roba, veramente tanta roba. La scatolina l'ho trovata adorabile. Cioè, metti sta scatolina nello zaino, sei a posto. Se ti sposti da posto A a posto B, mentre sei in macchina che ti muovi per andare a fare un'altra roba, nel frattempo questi si ricaricano, senza che tu porti powerbank, senza che tu stia a cablare niente. Li rimetti nella scatola e intanto questi si caricano. Qualcuno nei commenti nello scorso video mi aveva detto sì, però non hanno l'attacco USB-C sul corpo dei trasmettitori e del ricevitore. Quindi non puoi caricarli singolarmente mentre registri. Quindi se fai una registrazione lunga, tipo 5 ore filate, ecco, a un certo punto loro si scaricano e tu non puoi ricaricarli. Questa cosa è vera, però bisogna vedere che tipo di videomaker sei. Cioè, pure se riprendi uno spettacolo teatrale, a un certo punto c'è. C'è un maledetto break, ok? E in quel caso ti devi portare a due sistemi. Uno è carico, uno è scarico, mentre usi uno l'altro, no? Durante l'intervallo fai il cambio. Se invece ti serve di registrare per 5 ore consecutive cascasse il mondo, non puoi perdere un secondo, questo sistema semplicemente non fa per voi. In quel caso direi che è molto meglio il sistema di Rode. Però, posso dirvi la verità, da quando ho il sistema wireless Go e non è poco tempo, io non ho mai attaccato l'USB-C per alimentare il sistema. Mai. Non mi è mai capitato, non l'ho mai dovuto fare e ho fatto anche dei video abbastanza lunghi, dei progetti con riprese abbastanza lunghe. Mai. Non mi è mai capitato di usare un powerbank per mantenere la registrazione per ore e ore. Dipende da quello che giri. Per me non è una cosa così importante, proprio perché in tanti anni non mi è mai capitato di doverlo fare. Si potrebbe anche pensare di fare una comparativa con il sistema di Rode Wireless Go. Non ho altri sistemi adesso a portata di mano, il Saramonic l'ho regalato a mio padre perché ne avevo veramente troppi qui, però direi che, siccome il Wireless Go è uno dei più utilizzati, anche qui su YouTube, direi che un confronto così ci sta. Cominciamo con il Rode Wireless Go usando la capsula sul trasmettitore. Io ce l'ho attaccata qui, a questo cordoncino, e direi di leggere qualcosa di edificante. Leggiamo il vero Ezechiele 2517, non quello di Pulp Fiction. Farò su di loro terribili vendette con castighi furiosi e sapranno che io sono il Signore quando eseguirò su di loro la vendetta. Molto simile. Comunque, questo è Rode Wireless Go 2. Ok, proviamo adesso la capsula sul trasmettitore dell'Arc. Mi sembra di vedere, dal v-meter della mia Fuji X-T4, che siamo un po' più alti. Forse spinge sensibilmente di più? Comunque, leggiamo. Farò su di loro terribili vendette con castighi furiosi e sapranno che io sono il Signore quando eseguirò su di loro la vendetta. Wow. Che arrope cazzo. Ok, è arrivato il momento di registrare con il Lavalier. L'ho clippato nello stesso punto in cui prima c'era il trasmettitore e andiamo a registrare la medesima frase. Farò su di loro terribili vendette con castighi furiosi e sapranno che io sono il Signore quando eseguirò su di loro la vendetta. Notate la pausa proprio alla Pulp Fiction. Non riesco a dirla diversamente. Ho visto troppe volte quel film. Farò su di loro terribili vendette con castighi furiosi e sapranno che io sono il Signore quando eseguirò su di loro la vendetta. Ok, non lo so. Non so. Voglio sentire. Mi tolgo anche questa piccola curiosità. Provo a far suonare il mio Lark 150 con il Lavalier di Rode. Hai visto mai? Farò su di loro terribili vendette con castighi furiosi e sapranno che io sono il Signore quando eseguirò su di loro la vendetta. La bocca è impastata appena finito di mangiare. Senza stare a farla troppo scientifica, secondo me, per quanto riguarda le capsule sui trasmettitori, siamo più o meno lì. Rode lo sento un po' più definito, Lark è un po' più impastato, però siamo lì. La vera differenza è nei Lavalier. Cioè, Rode suona veramente più impastato, più confuso. Lark è cristallino, quindi... Vince l'Ark. O naturalmente tutte queste registrazioni non hanno subito interventi di riduzione del rumore, di compressione. No, ho soltanto normalizzato. Ok, ho soltanto messo a livello tutti quanti i file, ma non ho fatto nient'altro. Non ho equalizzato, non ho compresso... Tutto così, vaniglia. Che dire, io mi son trovato veramente bene. Sono anche più belli da vedere rispetto ai Wireless Go, che sono lucidi e se becchi il sole, se becchi una luce, ti fa riflesso nella ripresa. Io non capisco perché li abbiano fatti lucidi. Maledizione. Tu vuoi nasconderli su una giacca scura? Lo puoi fare, ma se beccano luce, fanno riflesso e rompono i coglioni. I LARC sono opachi e non rompono così tanto. Quindi un punto design all'ARC per questo. Un altro punto design, se non altro rispetto al primo sistema Wireless Go, è l'innesto del gattino morto, che questa volta sfrutta il foro da 3.5. È geniale, porco giuda. C'era un buco, qualcosa. C'era su questi dispositivi, usiamolo. Perfetto, molto comodo. Poi, sistema Wireless Go 2 di Rode ha inventato un sistema, secondo me, ancora più figo con l'avvitamento, che lascia anche libero il foro da 3.5. Quindi prendiamo due piccioni con una fava. Però, insomma, veramente mi sono trovato bene. Mi piace un botto. Sono contentissimo di averlo qui. E mi piacerebbe provare qualche prodotto, sempre di Holliland, però video. Perché loro trattano anche trasmettitori video. Questa è una cosa che io per lavoro non ho mai fatto. Non ho mai avuto la necessità di usare un trasmettitore video, perché ho quasi sempre operato da solo. Negli ultimi anni, invece, mi sono circondato di una piccola troupe, andiamo in giro in 3 o 4 massimo, e lì mi farebbe piacere, soprattutto con chi mi segue da poco, quindi sto ancora cercando di formare, tra virgolette, mi farebbe piacere avere una schermata bella, con una bella possibilità di divisionare il fuoco, di divisionare gli ingombri e tutto il resto, a distanza. Quindi magari la ripresa non la faccio io, perché così faccio fare esperienza a questi ragazzi, però io posso controllare in maniera patriarcale dall'angolo. E così, se c'è qualcosa che non va, lo so subito, e non devo bestemmiare la madonna quando vado a scaricare i file la sera. Va bene, ragazzi, promosso a pieni voti per quanto mi riguarda questo Lark 150, spero che vadano avanti su questa linea, prodotti belli, robusti, con un design intelligente, con un'ottima qualità del suono. Quello su cui non mi posso sbilanciare ancora è la durevolezza di questi oggetti, perché come al solito se ne parla anni dopo di questo fattore. quindi su questo c'è ancora il dubbio.